Ok, oggi sempre utilizzando l'aiuto di Harry Potter, cercheremo di capire alcune cose sulla lingua inglese, specialmente sulla lingua inglese parlata in Inghilterra. Perché? Perché anche se la lingua inglese è famosa per essere, specialmente quella in Inghilterra, per essere una pronuncia molto molto raffinata, vedrete che nella vita reale esistono centinaia di pronunce in Inghilterra, un po' come in Italia, che abbiamo un'infinità di varietà dialettiche. E quello che voglio farvi vedere oggi è un'evoluzione che è molto molto comune, che è chiamata la drop in T, quindi il saltare la pronuncia della lettera T. Se vediamo questo video, vediamo come la famiglia si lamenta del serpente, e ascoltiamo quello che dice Harry Potter, come dice about. Dice sorry about him. No, dice about, non pronuncia la T, perché la salta. E questo è un modo di pronunciare molto tipico in Inghilterra. ancora una volta. Ok? Quindi questo è un modo molto tipico. Vediamo che la stessa cosa capita anche in quest'altro video. Come on, Harry. E Harry risponde one minute. One minute. Notate che non dice one minute, che sarebbe la pronuncia precisa. Ascoltiamo ancora. Come on, Harry. One minute. Quindi ancora una volta viene saltata la pronuncia della lettera T, molto tipico in Inghilterra. Vediamo adesso come Ron, l'amico di Harry, pronuncia that. Quello. That. Notate che si scrive T-H-A-T, con una T finale, ma vediamo come la pronuncia Ron. Vedete cosa dice? Dice I know what that is. Non dice what that is, ma salta la T finale. Ascoltiamo ancora una volta. Ok? E se saltiamo un pochino, possiamo vedere come Hermione pronuncia la stessa parola. Oh, sorry. Vedete che lei pronuncia in maniera molto più raffinata, con la T. Quindi lei pronuncia molto più forte la T finale. Questo perché la sua pronuncia è vista come una pronuncia più poch, quindi una pronuncia più raffinata. Bene. Per questo corto video è tutto. Ricordatevi di iscrivervi al canale, di lasciarvi nei messaggi, sapere cosa pensate di questo video, se li preferite più lunghi, con più dettagli, più corti, con meno, su altri film, sia Matt e Harry Potter, o altri varianti consigli che vorreste darmi. Noi ci vediamo alla prossima. Guardate anche il link della pagina web che è nella descrizione. Vi possono essere estremamente utili. Ciao!